Filippo Servalli, Radici Group. Innovazione, come è stato possibile in qualche modo metterlo in pratica e farlo diventare il vostro driver del successo? Ecco, il percorso che noi stiamo portando avanti sull'innovazione è legata a un approccio diverso al tema della sostenibilità. Nel senso che per noi innovazione è oggi il dire non avere dei nuovi prodotti o avere prodotti che hanno una loro maturità. Noi siamo in mercati maturi, quindi facciamo prodotti, il nylon è stato inventato più di cent'anni fa, quindi da questo punto di vista ha qualche anno. Quindi il nostro approccio è stato quello di studiare un approccio diverso al costruire futuro, quindi l'innovazione come costruzione del futuro. E questo nostro messaggio parte dal fatto di avviare percorsi virtuosi all'interno dei sistemi produttivi che portino a risparmi energetici, a una riduzione dei consumi, miglioramenti di processi che portino a rendere più efficaci la nostra produzione e quindi più sostenibile. Sostenibile in chiave ambientale ovviamente, ma sostenibile anche in chiave economica perché appunto più i processi sono efficienti e efficaci e più l'economicità del processo avviene. Dal punto di vista poi del rapporto produttivo si lavora per avere ambienti di lavoro in sicurezza. Noi siamo produttori di materie prime che diventano poi materie plastiche e fibre sintetiche che quindi hanno bisogno della chimica. E la chimica allora è stato il nostro driver per il miglioramento di efficienza e per rendere al meglio possibile quello che è l'impatto ambientale. Bisogna dire che la chimica, anche se tutti ne parlano ancora con il retaggio del passato, oggi la chimica è quella che ha ridotto quasi del 60% tutte le sue emissioni, ha ridotto i consumi energetici e credo il settore dal punto di vista anche del mondo del lavoro dove la qualità del lavoro per i lavoratori è la migliore. Quindi da questo punto di vista bisogna togliere un po' di stereotipi sul tema della chimica brutta, sport e cattiva ma la chimica che è parte di noi, dobbiamo saperla gestire e conoscere. Ecco che la chimica ci consente di costruire progetti che hanno una valenza anche per il futuro. Sostenibilità noi l'abbiamo declinato con un solo concetto che è futuro e il futuro prevede di fatto che ci siano sempre delle innovazioni. Non abbiamo nuovi prodotti ma la sostenibilità è il nostro nuovo prodotto. Una battuta anche sul tema più a largo e visuale di questo forum che è dedicato all'internazionalizzazione del Made in Italy. Quanto conta per voi questo aspetto? Ecco, noi siamo un'azienda che è presente in una quindicina di paesi del mondo, l'headquarter centrale è in Italia, però abbiamo sempre ridottato la filosofia del sviluppo locale in una visione globale. Quindi fondamentalmente tutto il nostro sistema è un sistema che si basa su strategie, visioni globali ma però con una presenza radicata nei diversi territori. Il Made in Italy per noi di fatto è questa efficienza, è questo modo di parlare di italianità e di efficienza, è un percorso particolare. Però ci permettiamo sempre di dire che l'ultimo impianto chimico nel nostro settore l'abbiamo realizzato in Germania e l'ha fatta un'azienda italiana. Quindi da questo punto di vista la chimica che è nata di fatto in Germania è stata realizzata in Italia da un'azienda italiana. Quindi questo è il nostro Made in Italy che vuol dire fondamentalmente una capacità di produzione, siamo la quarta o quinta manufacturing del mondo, una capacità di affrontare i problemi con una prospettiva e devo dire le difficoltà che noi abbiamo nel sistema di oggi, che se fossero di meno sarebbero meglio, però ci hanno resi più forti nella competizione internazionale. Quindi da questo punto di vista il nostro essere italiani nel mondo ci fa essere anche efficienti e ci fa essere efficaci. Quindi il messaggio a un percorso del Made in Italy verso l'estero è le nostre imprese, soprattutto quelle del manufacturing, che hanno una lunga storia e che hanno da sempre messo al centro il discorso dei costi, dell'efficienza produttiva, una forza. e questa è anche una valenza importante per la competitività. Il Made in Italy, quello più visibile del food piuttosto che della moda, è così anche grazie a questo retroterra che è il nostro elemento del manufacturing italiano, che dal punto di vista della competenza e della forza non è secondo a molti, anzi, come hai detto, siamo la quarta manufacturing del mondo, quindi qualche potenza anche in chiave tecnologica di innovazione e di capacità di gestione dobbiamo riconoscercela. In un mondo ormai quasi completamente globalizzato, che ruolo ha per l'impresa, l'hub fieristico in sé? Ecco, da questo punto di vista sta cambiando notevolmente l'approccio. L'approccio di fatto è molto più di reputation. Io credo che l'approccio alla presenza in fiera nelle varie parti del mondo serve per costruire la reputazione. Nel passato, quando c'è stato il momento più difficile per il mondo fieristico, quelli che abbandonavano la loro presenza, in chiave di visibilità, in chiave di punto di incontro, punto di riferimento nelle diverse parti del mondo, oggi non ci sono più. Quindi vuol dire che quelli che hanno mantenuto questa forza di essere e di continuare a manifestare la propria identità, anche nel luogo della fiera, diventa importante. Certo, deve cambiare, è diventato più un approccio dell'incontro e siccome bene o male nelle relazioni industriali, non solo, le relazioni di lavoro, la relazione umana passa ancora appunto al contatto personale, la fiera è uno degli elementi che deve continuare a esserci. Ovviamente, probabilmente meno lunghe, con meno tempistiche, ma molto più focalizzate, che aiutano molto più le persone a stare assieme, a relazionarsi e da lì costruire strategie e piani di lavoro.